Alla fine Adi ce l'ha fatta, è riuscito a vincere il suo primo Arnold Classic, infatti ieri sera Adi è riuscito a battere Samson Dauda, il campione in carica, e a vincere il titolo di Arnold Classic Open 2024. È stata una gara veramente molto bella e molto interessante anche alle finali, che però secondo me hanno solo confermato quello che era successo al pre-judging, quindi non ci sono stati colpi di scena per i primi due. Queste sono le scorecard finali, Adi ha vinto con 10 punti, è sempre rimasto primo, l'hanno sempre messo come primo posto, così come Samson è sempre stato messo secondo dietro Adi, stessa cosa per Brandao, sempre terzo. L'unico cambiamento che c'è stato tra le finali e pre-gara è di Akin Williams, che al pre-gara era settimo con 35 punti, mentre alle finali lo hanno messo addirittura quarto a 20 punti. E infatti alle finali a Akin Williams l'hanno messo nel collatto finale con Samson, Adi e Raffael, quindi ha fatto un bel miglioramento tra pre-gara e finali, ma purtroppo comunque ha ottenuto il sesto posto per il pre-gara, che è andato molto male e ha ricevuto un sacco di punti. Però alle finali ha fatto molto bene, tant'è che l'hanno messo tutti quarto. Allora, analizziamo la vittoria di Adi, giustissima, secondo me ha meritato, non c'erano dubbi sulla sua possibile vittoria, bisogna solo vedere se sarebbe entrata in gioco la politica o meno. E per una volta, alla fine, all'Arland Classic ha vinto il migliore. Una delle pochissime volte in cui ha vinto il migliore senza nessuna polemica e senza nessun battibecco. E giustamente, oserei anche dire, perché se non avesse vinto Adi sarebbe stato uno scandalo enorme, forse uno dei più grandi della storia. Allora, Adi secondo me si è confermato anche alle finali, ha portato un'ottima forma, forse non tirato quanto al pre-gara, però comunque era nettamente migliore rispetto a Samson, che dal pre-gara a finali secondo me non è migliorato, anzi forse è peggiorato. E non di poco, perché alle finali l'ho visto ancora meno definito del pre-gara e con lo stomaco ancora più appannato e fuori controllo del pre-gara appunto. E hanno fatto un call-out finale appunto con Adi, Samson, Raffael e Hakim. E Raffael accanto a Samson, non è che stava poi così tanto male. Anzi, stava molto bene e domani farò un confronto tra i primi tre, perché Raffael Brandao accanto a Samson Dauder ai finali, eh, gli ha dato un po' di fastidio secondo me. E all'Olimpia, se ovviamente si qualificherà Raffael, farà un bel balzo in avanti per quanto riguarda i posizionamenti, perché accanto a Samson, molto interessante, erano molto vicini. E domani farò un confronto più approfondito. Comunque, poi al quarto posto è arrivato Jonathan De La Rosa, che questo lavò a zecca alto sia al pre-gara che anche nei pronostici. E al quinto è arrivato James Olinshed. Questo, questa, secondo me, è stata la rivelazione della gara. Un quinto posto di James Olinshed non me lo sarei mai aspettato, ma veramente mai. Quindi, complimenti a James per il risultato. Torniamo sui primi due. Adi ha ancora dimostrato di essere una spanna superiore rispetto a Samson e che quindi è ancora in lotta per il titolo di Mistro Olimpia. Questa forma potrebbe bastare per battere Derek al prossimo Olimpia e riconquistare il titolo perduto? Non lo so, non lo so. Più che altro non dipende dal fisico di Adi, dipende da altri motivi. Cioè, per esempio, io avrei fatto vincere Adi all'ultimo Olimpia, perché secondo me era migliore rispetto a Derek, ma i giudici l'hanno pensato in un altro modo. Quindi non dipende più di tanto dal fisico che porta Adi, dipende da altri fattori esterni che conosciamo. Ora ha confermato di essere ancora il secondo miglior bodybuilder al mondo, con una prova di forza qui all'Arlon Classic, però dovremo vedere all'Olimpia se le cose andranno a cambiare oppure no. Per Samson invece non la vedo molto bene, non ho visto miglioramenti da questa gara all'ultima gara che aveva fatto, anzi l'ho visto un bel po' peggiorato in termini di condizione. Non era nella sua miglior forma di sempre, soprattutto confrontandola con quella che gli ha fatto vincere l'Arlon dall'anno scorso. Era molto indietro di condizione, specialmente sul front e di back. Per esempio qui Samson avrebbe anche un bellissimo front double bicep, però non è abbastanza definito come quello di Adi. Front last pad, l'addome di Samson rovina tutto secondo me perché si allarga un pochettino, e diventa molto appannato e non è molto rotondo nell'upper body, petto, spalle e tercipiti. Le pose di lato io le ho sempre date a Samson più che altro perché in quelle pose Adi perde volumi. Non so perché, sia nelle gambe nell'upper Adi in quelle pose perde volumi, mentre Samson li mantiene. Però di schiena Adi ha distrutto Samson, Samson era una tavola nella schiena. completamente liscio e piatto, sia schiena, glutei, specialmente glutei femorali, era completamente liscio e non si avvicinava minimamente alla condizione di Adi. Quindi secondo me Adi ha vinto la maggior parte delle pose, ha vinto 6 pose su 8, che sono quelle due frontali, schiena, addome e most muscular, mentre Samson secondo me ha vinto le pose laterali, side chest e side tricep, non per la condizione ma più che altro per delle migliori forme e rotondità. Però Adi ha veramente stravinto questa gara e ha confermato ancora di essere in lotta per il titolo di Mistro Olimpia. Tra l'altro Arnold ha fatto un annuncio scioccante, ha annunciato che dall'anno prossimo il monte premi per l'Arnold Classic sarà di 500 mila dollari, mezzo milione di dollari e andrà, attenzione, a superare il monte premi del Mistro Olimpia di ben 100 mila dollari e questo è una bella sfida tra Arnold e l'Olimpia. E non mancherà tanto che anche l'Olimpia andrà ad aumentare il suo monte premi perché Arnold gli ha lanciato una bella sfida e mezzo milione di dollari e penso che non faccia uno schifo a nessuno. Quindi secondo me l'anno prossimo vedremo un line-up ancora più ampio e ancora più competitivo per appunto il monte premi maggiorato. Comunque, fatemi sapere la vostra, fatemi sapere cosa vi è piaciuto e cosa non vi è piaciuto di questo Arnold Classic che si conclude così. Nei prossimi giorni farò molti video di confronti sia in classiche che nell'Open quindi rimanete uniti e attivate la campanella degli avvisi così non ve ne perderete neanche uno. Fatemi sapere la vostra, vi chiedo un like e un commento come al solito e ci vediamo nel prossimo video. Grazie. 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 Grazie.